musica 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 Davila Canal, questa è la serata a preparare le sue immagini forti Dove l'hai rubato questo cazzo di panda? Sul divanetto No, dillo, dov'era? Eh, sul divanetto Ma velocemente anche Filippo Pistore Apparazzato con la notissima PDA Nazionale Sto facendo una panda Dove cazzo l'hai rubata? Amuri, bella È la più migliore amica lei Ma dai, è la più migliore amica La media scolastica era buona Allora, la media penso che si avvicinava dal 3.5 al 2.9 Ok, qui i giorni di assenza si risbattono il cazzo Clara Fornari La serata come procedi? Bene, bene Stai bevendo? Come no? Come no? È acqua Analcolico Analcolico Abbiamo il privilegio di avere la zia Martona Ciao a tutti Detta anche? Detta anche cosa? Nazionale 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 C'erano i 20 milioni Come fate? E tu hai comprato Giulio Brunello Grande, signor Brunello Grande No, tocca a lui Com'è questo Giulio Brunello? Tocca Tocca No, ma... Apprezza Nick Savino Solo Nick Savino Apprezzate un sacco FRAVILA CANAL Fra Villa Canale Nome e cognome Veltroni Alberto Guzzoni Francesco Levi Soave Che cazzo fate qua? Su qualche armare vedere un po' di gnorla E' tette E' tipico E' tipico di tette E poi vado con Braggio in giro a Troioni Che ci sta sempre Quello è il posto serata Quello è il posto serata Sì Tettosissime tettine, vecchio Buon Buon Stiamo bevendo Stiamo fumando Vedi cazzo Vedi cazzo Vedi Da metto Da metto Interrompiamo un attimo lavoro Come ti chiami? Andrei Budau Quanto cazzo stai lavorando stasera? Porco Grande Ricky E' Ricky perché non ci fai gillermo Ricky? Come sta? Porca troia sei lento Eccoli qua Eccoli qua Eccoli qua Uno Ma conoscete il cameraman? Chi è? Se Profondamente Questo qua è stato tirando su Buona 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 Questo sta tirando su Una canna di droga Sia la droga Ma no E lo scombo il quiz Caccia dai lui Mi è stocca Dai Scoperta l'America No 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 Non me lo ricordo Dai scoperta l'America Chi ha scoperto l'America? Ti stai chiedendo delle robe troppo difficili 22 coglione 4 settembre ignorante Allora posso confermare Dalla zona che qua L'anito è cattivo Pregniamo la domanda Viso Qual è la data della prima rivoluzione francese? Eeeh Eeeh E' tanto tempo fa E' tanto tempo fa E' tanto tempo fa Nome? Iacobo Cognome? Rizzon Rizzon Sara Rizzon Sei Nicolò Sì Braggio Tu sei Rizzon Rizzon Figlio è professore No 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 Non è un professore Come no? 100 minuti su a cena Sì Sì Quello dei Wukart Sì Eeeh Hai la cicca Sì 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 Vai Sì Sì Abi Giù In Sì Sei buona! Viva la Vigliacanale! Viva tutto quanto! Braggio ti amo! E vaffanculo tutto! NINTENDO! I wish that I could make her see! She's just the flavor of the week! Yeah! Scusa! Puoi levarti ai coglioni! Hai le tutte! No! Domani! Viva la Vigliacanale! Braggio! 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 Come è andata? Ho rotto due bicchieri stasera! Ok, dove lavori? Casa da Pino! Cosa fanno? Questa cos'è? Maiali! Ehi! Quasi! Vedevo dell'attrazione tra di voi! Secondo me si! Vedevo dell'attrazione! Grande auguri Viso! Grazie Vicky! Grazie alle sopracciglie se posso notare! No, guarda che amore! Agnenni e Adovino! Quanti ne fai? Quattordici! Dodici! Vuole il tuo paccomo preferito! Eeeh... La vagina! Cazza su cazzo il Gilemon! Due Gilemon! Il Gilemon! Il Gilemon dove sta? Il Gilemon! Il Gilemon dove sta? Grazie! Grazie! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Ma che signori sono questi? Sì, ma i signori eh! Provenienza? Maiali! Maiali! Continuata alla grande! Alla grande! Alla grande! Ma sono signori! Benissimo! 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 Benissimo!